Meite puntuale presente, bravo super, Dalò che mette in mezzo, allontana la Serbena, palla che ballonzo la in area, Romagnola anticipato, Krunic non riesce a colpirla piena questa palla. La palla gli è rimbalzata davanti, c'era anche un Mani, c'è un silent check. Calcio di rigore, a parte che sì. Goal! 1-0 per noi, dopo 8 minuti di gioco, KK che sì su rigore. Ecco la palla messa in mezzo da Kanga, e c'è il gol della Stella Rossa. Deviato Pancor di mano. Attenzione, la punizione di Benna Buan, un crocio dei pari. Un crocio dei pali. Eccoci qua, eccoci qua, il tiro e il gol. Benna Buan pareggia, ragazzi stiamo giocando una partita orribile. Pareggio di Benna Buan. Palla messa in mezzo, colpo di testa di Ibra, la palla resta lì. La parata di Gigio, e la palla esce. Enorme occasione loro, enorme occasione loro. Ancora c'è la Noglu che dà una bella palla a Salem Hekers. Tolto il vantaggio a Milan, eravamo in un 3 contro 3. C'è un giallo per Goebelic che viene espulso. Goebelic viene espulso. Goebelic. Goebelic. Grazie a tutti.